E buona domenica a tutti con l'analisi tattica di Empoli Juventus 1 a 2 grazie all'app SofaScore che vi invito a scaricare dal primo link nella descrizione qui sotto il video per avere sempre in diretta con voi i risultati di tutte le partite e i campionati e gli sport che vi interessano oltre appunto alle statistiche approfondite è stata una partita di grande combattimento, di grande sofferenza per la Juventus con un Empoli molto propositivo che ha messo in difficoltà il pianconiere passando in vantaggio e chiudendo in vantaggio il primo tempo poi ci ha pensato un signore che si chiama così Allora andiamo a vedere le statistiche, è una partita sicuramente molto da analizzare perché ci sono molti aspetti interessanti dal punto di vista tattico e bisogna poi capire che cosa non ha funzionato soprattutto nel primo tempo Entriamo allora nella camera tattica di Empoli Juventus 1 a 2 Dalla grafica che vediamo si nota come la Juventus ha provato ad attaccare per quasi tutta la partita ma nel primo tempo ci sono stati degli sprazzi dell'Empoli e anche nel finale che hanno messo in discussione il risultato Passiamo subito alle statistiche concentrandoci prima sul primo tempo che è stato emblematico ed è stato molto contestato a carico della Juventus da parte di noi tifosi per il rendimento e soprattutto per il risultato finale Però vedete che la Juventus aveva il 62% di possesso palla aveva tirato più del doppio verso la porta dell'Empoli con però solo 3 tiri effettivamente in porta e 2 dell'Empoli di cui 1 era il gol di Caputo 8 calci d'angolo e questo è stato anche il motivo della grande pressione offensiva della Juventus però in effetti poi 0 grandi occasioni vere dei 12 tiri 6 dentro l'area maggior numero di passaggi oltre 100 passaggi in più rispetto all'Empoli con una precisione importante dell'89% però ecco meglio anche sui contrasti vinti palle perse 5 a 5 questo non era sicuramente un dato positivo ma soprattutto ripeto il risultato penalizzava la Juventus e andiamo a vedere come è finita la partita con comunque una predominanza della Juventus sul possesso palla i tiri che arrivano a 20 totali di cui 7 in porta 10 i calci d'angolo e va bene 21 falli un po' troppi da parte della Juventus che ha sofferto sulle ripartenze ha sofferto anche in generale sul gioco dell'Empoli ma soprattutto nel finale la pressione offensiva dell'Empoli con 3 gialli per la Juventus e vediamo però anche una grande occasione e il palo, la traversa anzi di Pjanic con deviazione del portiere 11 dei 20 tiri erano dentro l'area e poi vediamo con i passaggi ci siamo mantenuti sullo stesso livello del primo tempo più passaggi sicuramente dell'Empoli e la precisione addirittura nel secondo tempo è aumentata da 89 a 90% però vediamo 12 palle perse 12 palle perse e un altro dato importante sull'ultimo rigo trovate 20 salvataggi a 20 in fase difensiva segno che la Juventus si è dovuta difendere tantissimo quanto l'Empoli e questo non è incoraggiante passiamo alle posizioni medie dei giocatori in campo naturalmente quelle della Juventus e qui vediamo una situazione anomala rispetto alle altre partite per la presenza di giocatori con caratteristiche diverse De Sciglio sicuramente più arretrato rispetto alla posizione media classica di Joao Cancelo e questo si è riverberato anche sulla posizione di Bernardeschi rispetto a Di Bala nel senso che in quella zona c'è stato un maggiore avvicinamento dei giocatori per cercare di fare gioco sulla tre quarti in zona centrale non potendo contare sullo sbocco sulla fascia cosa che invece abbiamo avuto sempre costantemente a sinistra con Matiudi molto vicino ad Alexandro e poi c'è una particolarità che approfondiremo in questa analisi tattica il fatto che il regista arretrato comunque l'uomo centrale davanti alla difesa non è stato Pjanic ma è stato Bentancur con Pjanic evidentemente mezza ala lo si vede da questa posizione molto vicino a Di Bala a fare qualità sulla linea di difesa Bonucci come sempre più arretrato rispetto al compagno di difesa anche se Bonucci ha dovuto fare le veci di Chiellini quindi con caratteristiche diverse e poi Ronaldo più avanzato di tutti ma molto accentrato come posizione media lo vedremo dopo dalla sua hit map perché la sua posizione non è molto defilata questa volta guardando le sostituzioni non c'è da tenere in alcun conto Barzagli e Douglas Costa numeri 15 e 11 ma soltanto Quadrado che praticamente si posiziona più arretrato e defilato rispetto a Bernardeschi e più vicino quindi a De Sciglio andiamo allora a vedere come hanno giocato i nostri giocatori Salto Scesni che ha un voto negativo non so perché ma non ha dei dati significativi da poter analizzare partiamo allora con De Sciglio De Sciglio che ha fatto sicuramente un'ottima partita guardate dalla sua hit map si è concentrato il suo gioco i suoi tocchi di palla sia sulla tre quarti difensiva che poco oltre il centrocampo non è arrivato a rendersi pericoloso vicino all'area però ha giocato molto bene nella zona di sua competenza poi è uscito per far posto a Barzagli nella sua partita da quasi 90 minuti tre salvataggi un intercetto un contrasto vinto su due abbastanza bene negli uno contro uno ha perso anche un pallone e ha fatto un fallo abbiamo visto i falli sono stati tanti da parte della Juventus buona la precisione dei passaggi con l'86% anche se più bassa della media di squadra ma anche due passaggi chiave benissimo sui cross e sulle palle lunghe molto molto bene sui cross De Sciglio tre cross sono andati a buon fine su cinque tentati un dato importante a volte ha fatto meglio anche di alcune partite di gioco a Cancelo quindi comunque una partita positiva di De Sciglio vediamo Rugani che non prende una votazione molto alta secondo le statistiche di Sofascore ma sicuramente ha giocato bene anche lui come ha sottolineato anche Max Allegri la sua hit map racconta di una partita di controllo nella sua zona con vedete questa linea orizzontale parallela all'area di rigore che segnala quanto Rugani abbia dovuto fare degli interventi difensivi proprio diciamo a sventare le minacce dell'Empoli perché quella linea lì significa non è una linea attiva di impostazione ma è una linea passiva di chi subisce l'azione altrui vediamo però ha fatto due salvataggi un tiro bloccato un intercetto ha vinto il 100% dei contrasti abbastanza bene anche negli uno contro uno molto bene molto bene la precisione dei passaggi 31 passaggi completati con il 91% di precisione e benissimo sulle palle lunghe quindi si è dedicato anche all'impostazione dei numeri di Rugani tra i numeri di Rugani mancano sicuramente quelli che non sono calcolabili come le coperture preventive e il fatto di togliere spazio e punti di riferimento alla fase offensiva della squadra avversaria sua caratteristica predominante lavoro sporco e silenzioso che notano solo i più attenti andiamo su Bonucci che prende una votazione migliore vedete non ha una hitmap calda ma ha giocato tantissimo in area di rigore infatti la grande partita di Bonucci si è giocata tutta lì sul salvare la porta tre infatti i salvataggi due i tiri bloccati e tre gli intercetti abbastanza bene negli uno contro uno ha fatto un fallo straordinario la precisione dei passaggi anche se ha passato il pallone correttamente solo 25 volte quindi veramente pochi rispetto alla sua classica al suo classico score benissimo però anche sulle palle lunghe e anche un tiro bloccato Bonucci ha fatto ripeto veramente una partita di salvataggio del risultato e in questo è stato straordinario ha dovuto fare le veci di Chiellini meno presente in fase di impostazione ma era una partita un po' strana da questo punto di vista Alexandro veramente uno dei giocatori top di questa partita una prestazione impressionante si era parlato benissimo di lui anche contro il Manchester United ha confermato il suo rendimento con un'altra prestazione strepitosa guardate la sua hit map è stato praticamente incontrastabile un dominio assoluto quella lingua rossa che da fuori a area entra dentro è veramente un segnale di dominio di Alexandro nella zona più pericolosa del campo addirittura ha una hit map molto calda davanti alla porta veramente una partita impressionante 4 salvataggi e 3 contrasti vinti su 4 per quanto riguarda la fase difensiva anche un dribbling subito che credo sia quello lì di Acqua sul gol di Caputo ma 15-1 contro 1 riusciti su 21 15-1 contro 1 riusciti su 21 ha perso anche due palloni ma glielo concediamo equità sui falli 55 passaggi riusciti con 3 passaggi chiave bene anche lui sui cross e sulle palle lunghe e 3 dribbling riusciti su 3 tentati oltre a 3 tiri in porta solo applausi per Alexandro andiamo al centrocampo con Bernardeschi uno dei peggiori in campo lo dice anche la sua votazione la hit map è corretta quella tra l'altro di un giocatore che ha giocato solo 66 minuti come posizione in campo ci sta il problema è quello che ha fatto in questa posizione 31 passaggi riusciti quindi molto bene anche la percentuale del 91% anche un passaggio chiave però 0 cross su 4 tentati 0 cross riusciti bene sulle palle lunghe male sui dribbling ha tentato un solo dribbling ed è poco e non gli è neanche riuscito sui 1 contro 1 meno del 50% ha subito anche 4 falli ma ha soprattutto ha fatto 2 falli ha perso un pallone e ha subito un dribbling oltre ad aver fatto un intercetto diciamo una partita un po' svogliata se vogliamo da parte di Bernardeschi che non è da lui ed è stato soprattutto un po' impreciso proprio nel creare difficoltà alla difesa dell'Empoli non si è reso pericoloso proseguiamo con Pjanic silenziosamente tra i migliori in campo e vedete questa è la classica hit map di una mezzala ha giocato mezzala centro-destra Pjanic molto in proiezione offensiva con grandissima grandissima qualità in 80 minuti guardate 75 passaggi riusciti corrispondenti al 97% di precisione in questi passaggi ce ne sono 5 che sono stati calcolati come passaggi chiave e anche 4 cross precisi su 10 tentati 17 palle lunghe su 17 in una partita sporca caotica con la Juve in difficoltà lui è stato impeccabile anche un tiro in porta e un tiro fuori compresa anche la traversa clamorosa con la stessa dinamica da cui poi sarebbe scaturito il gol di Ronaldo che però è andato in rete sugli 1 contro 1 è andato poco all'1 contro 1 perché ha ceduto tantissimi palloni quindi più che saltare l'uomo o provare a fare superiorità numerica ha semplicemente passato la palla al compagno anche due falli ma due intercetti e un contrasto vinto su uno tentato quindi una partita magistrale di Miralem Pjanic sotto tutti i punti di vista non so perché qualcuno gli ha dato voto basso passiamo a Bentancur che ha giocato un primo tempo rivedibile ma vedete questa è proprio la classica hit map di Pjanic solitamente e in questo caso appartiene a Bentancur ha giocato lui davanti alla difesa diciamo mediano regista arretrato e l'ha fatto comunque abbastanza bene ho quasi 88% di precisione dei passaggi con 50 passaggi riusciti anche lui due passaggi chiave molto bene sulle palle lunghe ha fatto anche un tiro fuori ha provato anche un dribbling e gli è riuscito bene abbastanza bene sugli 1 contro 1 ha perso un pallone però ha fatto 5 salvataggi 3 intercetti e 4 contrasti vinti su 4 ha subito un dribbling e ha fatto qualche fallo di troppo prendendosi anche il giallo diciamo che sulle ripartenze non è stato bravissimo una palla persa credo sia quella del primo tempo in cui appunto ha concesso una ripartenza all'Empoli però nel complesso considerato anche il secondo tempo la prestazione di Bentancur è sicuramente positiva ed incoraggiante guardiamo Matuidi che non ha giocato tantissimi palloni ma è stato ovunque veramente ovunque per recuperare palla la sua hitmap dice quanto veramente sia stato ovunque non c'è una zona precisa in cui Matuidi è stato più ha toccato più palloni che in altre semplicemente si è equimamente distribuito in tutte le zone di campo che gli aspettavano e l'ha fatto in maniera egregia tra l'altro ha fatto assist per Cristiano Ronaldo da non sottovalutare anzi non solo l'assist ma lì c'è Di Bala che va ad aggredire per recuperare palla e Matuidi gli sfila di fianco egregiamente perfettamente per togliergli la pressione e ricevere il pallone da giocatore smarcato veramente un'intelligenza tattica impressionante di Blaise Matuidi in quella situazione con poi appunto il passaggio a Ronaldo che diventa assist grazie a Ronaldo perché quello di Matuidi alla fine era semplicemente un passaggio precisione dei passaggi appunto 41 riusciti con 93% ormai si sta consolidando sempre oltre il 90% Matuidi a chi dice che ha i piedi storti un passaggio chiave anche oltre all'assist abbastanza bene anche sui cross benissimo sulle palle lunghe ha fatto anche un tiro fuori due dribbling tentati e due riusciti 6-1 contro 1 su 10 anche due palle perse ma abbiamo visto che la Juve ne ha perse tantissime ha fatto due falli ha vinto tutti i contrasti due intercetti e un salvataggio che dire una prestazione impressionante anche questa volta di Matuidi che è stato utilissimo anche se forse silenziosamente e andiamo all'attacco con Dybala che anche lui ha fatto una partita positiva e silenziosa guardate la sua hit map quanto ha insistito nella zona centrodestra della tre quarti cercando di fare grande qualità in quella zona ma si è mosso anche molto bene per tutto il campo era lui che andava a scambiare il pallone con i compagni per cercare di costruire l'azione di sviluppare il gioco si è preso grandi responsabilità in fase di costruzione Paolo Dybala non ha tirato in porta ha fatto un tiro fuori ha avuto però anche un tiro bloccato benissimo sui dribbling si è conquistato un calcio di rigore ed è tanta roba rigore netto quasi il 90% di precisione di passaggi per lui con due passaggi chiave e quasi tutte le palle lunghe riuscite 100% anche per quanto riguarda i cross non benissimo sugli uno contro uno ma comunque accettabile una partita ripeto sporca due palle verse due falli subiti e quattro falli forse ha fatto qualche fallo di troppo soprattutto nel finale l'ultimo fallo della partita lo ha commesso lui però anche tre intercetti si è sacrificato molto Paolo Dybala ha fatto una partita sicuramente di grande dando grande garanzia grande sicurezza ai compagni per la costruzione del gioco ti ripeto si è proposto molto e quindi è stato molto molto utile chiudiamo con Cristiano Ronaldo che diciamo va comunque analizzato nonostante abbia sicuramente meritato il premio di migliore in campo con un gol tra l'altro da Cineteca va analizzato va analizzata la sua hit map che è molto bella devo dire perché ha giocato esattamente vedete proprio equamente distribuito un pochino dentro là al centro dell'area e poi quasi alla stessa quantità di tocchi e di passaggi sia sul centro-destra che sul centro-sinistra al ridosso dell'area di rigore quindi è stato anche lui l'uomo ovunque della fase d'attacco due gol neanche a dirlo tre i tiri in porta un tiro fuori anche due tiri bloccati vedete non ha tentato tanti dribbling questo è un dato negativo della sua partita molto bene il numero di passaggi riusciti e la percentuale un passaggio chiave molto bene i cross e le palle lunghe non le consideriamo perché non sono le sue caratteristiche però male sugli uno contro uno quindi il dato dei dribbling non riusciti ma ha tentato solo uno e degli uno contro uno di cui pochi riusciti sono dati negativi da ricordare anche una palla persa e ha subito ben tre dribbling quindi diciamo Cristiano Ronaldo non nella sua miglior prestazione paradossalmente era un pochino meno lucido del solito meno grintoso del solito però ha deciso comunque la partita e questo è quello che conta chiudiamo ovviamente con i subentranti ve li faccio vedere tutte e tre perché c'è qualcosa da dire su tutti anche su Barzai che ha giocato pochissimo ovviamente partiamo da Juan Quadrato che è quello che ha giocato di più e ha giocato abbastanza male in 24 minuti va bene la precisione dei passaggi ma il problema di Quadrato è la palla persa che praticamente è stato un passaggio sbagliato clamoroso che ha dato palla all'Empoli in una situazione in cui non bisognava dare palla all'Empoli va bene un intercetto e un salvataggio ma poi soprattutto pesa su Quadrato il fatto di aver clamorosamente fallito nella ripartenza del possibile 3 a 1 sia il tiro che non ha tentato sia soprattutto il passaggio a Ronaldo che gli è riuscito male quindi prestazione negativa di Quadrato quando è entrato nel complesso vediamo Douglas Costa che ha giocato solo 10 minuti e ha fatto due passaggi entrambi riusciti ma io vorrei concentrarmi sul fatto che in questi 10 minuti ha fatto un dribbling e gli è riuscito e ha vinto il 50% degli 1 contro 1 oltre ad aver perso un pallone comunque e ha fatto però anche un intercetto quindi si è dato molto da fare chiudiamo ancora con Barzagli che ha giocato pochissimo però in questi pochissimi minuti ha vinto tutti e due gli 1 contro 1 che ha tentato si è fatto fare un fallo molto importante perché l'Empoli ha tolto ha perso la pressione offensiva in quella situazione e poi ha fatto anche un salvataggio ha bloccato un tiro insomma magistrale Barzagli pur avendo giocato veramente pochissimi minuti solo i minuti di recupero Curioso direi l'esperimento di Pjanic Mezzala con Bentancur davanti alla difesa Allegri nel post partita lo ha spiegato ai microfoni di Enrico Zambruno con il fatto ben comprensibile che Pjanic soffre la verticalità dell'Empoli quindi serviva chi avesse più gamba sulle ripartenze Bentancur ha dimostrato di averla ma neanche tanto ha sofferto un pochino pure lui ma Pjanic avrebbe sofferto sicuramente di più e poi c'era bisogno di Pjanic più avanzato in posizione quindi più vicina alla porta più vicina all'area e alla tre quarti per fare gioco di grande qualità come Pjanic appunto ha fatto come vi dicevo segnale negativo le 20 respinte difensive cioè i 20 salvataggi in difesa pari numero rispetto all'Empoli segno che abbiamo dovuto difendere tanto troppo e questa è un'anomalia diciamo rispetto alle partite che solitamente siamo abituati a fare stesso discorso per quanto riguarda i pochissimi passaggi effettuati da Bonucci solitamente noi giochiamo in controllo le partite con Bonucci che è in posta ieri questo non è non è accaduto e non è stato possibile alti e bassi tra i giocatori come vi ho mostrato tra i peggiori sicuramente Bernardeschi Bentancur nel secondo tempo si è un pochino ripreso però ci sono tutti i segnali positivi di una Juventus che comunque quando scende in campo e anche quando si trova in difficoltà sa cosa deve fare per raddrizzare la partita e oltre al gol di Cristiano che ancora ci appare davanti agli occhi anche quando non ci pensiamo abbiamo ancora nella mente davanti agli occhi io credo la straordinaria prestazione di Alexandro come mostrano anche i numeri bene in chiusura sottolineo per quelli che eventualmente sono subito pronti a criticare Daniele Rugani che Massimiliano Allegri nel post partita ha detto Rugani ha fatto un'ottima partita Rugani ha fatto un'ottima partita segno che posso contare su 5 difensori molto bravi questo per chiudere eventuali polemiche ci vediamo presto con nuovi video grazie per aver guardato iscrivetevi se vi interessano i contenuti che vi offro ci vediamo presto e sempre Forza Juve Grazie a tutti